Ben tornati telespettatori a mangiare informati, il redazionale di nutrizione e dietologia a cura della dottoressa Daniela Limonta, il vostro medico dietologo. Finalmente è arrivata la primavera, è aprile. Aprile è il mese principale per depurarci. Molte persone infatti arrivano con l'inizio della primavera ad essere cariche di tossine, si sentono stanche, hanno sempre sonno. Pensate che il detto popolare più famoso di aprile è proprio aprile dolce dormire, non hanno energia, non hanno voglia di far niente. Molte persone con la stagione invernale hanno fatto un vero e proprio pieno di tossine. Colpa del freddo, dell'inquinamento, del fumo, dello smog, della sedentarietà, dei cibi percalorici, della stagione invernale. Tutto questo ci ha intossicato. Ecco che quindi aprile diventa il mese per depurarci, per eliminare tutte le tossine. E perché dobbiamo fare questa depurazione? Per ritrovare l'energia, per ritrovare un regolare ritmo sonno e veglia, per far risplendere il nostro viso, i nostri capelli e anche magari per perdere peso. Gli studi, infatti, letteratura medica dimostrano che durante il trimestre invernale in Italia si ingrassa di 1-2 chili come media e quindi con la primavera è bene smaltire questi chili in eccesso. E come possiamo fare? Sicuramente con una dieta adeguata, con l'esercizio fisico, bevendo tanta acqua e consumando tanta frutta e tanta verdura. Ci sono alcuni studiosi che consigliano la digiunoterapia, ovvero per disintossicarci fare 1-2 giorni di digiuno. Io non sono molto favorevole. Secondo me il digiuno può essere pericoloso e poi tende a bloccare il nostro metabolismo. Il nostro corpo ha bisogno di energia tutti i giorni. Se per un giorno non mangiamo assolutamente niente, lui per farci sopravvivere il nostro metabolismo si blocca, si abbassa e quindi diventerà poi più facile ingrassare. Quindi anche se alcuni studiosi sono così favorevoli alla digiunoterapia, io dico sempre che invece una corretta dieta alimentare, del corretto esercizio fisico, possono dare più benefici del digiuno. Ma partiamo con la prima cosa da fare per depurarci, è quella di bere tantissimo. Il nostro corpo ha bisogno di un litro e mezzo, due litri di acqua tutti i giorni. Ci sono persone che bevono pochissimo, anche meno di un litro, meno di mezzo litro. Alcuni pazienti mi dicono ma io non ho mai sete, non berrei mai, sbagliatissimo. Questo non significa che il loro corpo non ha bisogno d'acqua, significa semplicemente che non si percepisce il segnale della sete. Il segnale della sete arriva dal nostro cervello, dall'ipotalamo, però molte persone non sono più sensibili a questo segnale, quindi non hanno mai sete, ma il loro corpo ha bisogno d'acqua. Quindi adesso con l'inizio della primavera dobbiamo iniziare a bere di più. E come si fa a bere di più? Innanzitutto bevendo i pasti e portando la famosa bottiglietta al lavoro. Una bottiglietta da mezzo litro, da 750 ml, andrebbe sempre tenuta sulla scrivania, in ufficio, a casa, in macchina o anche nelle donne e nella borsa. Ogni tanto bere un po'. Ovvio, non solo l'acqua è indicata, vanno bene anche tisane, tè infusi. Un ottimo antiossidante è contenuto infatti nel tè verde. Il tè verde contiene una sostanza che si chiama epigallo catechingallato, quindi un nome molto complicato, che è un potente antiossidante, quindi serve proprio per liberarci dalle tossine. Se non ci piace l'acqua, possiamo bere del tè verde. Pensate che gli orientali consumano normalmente il tè verde tutti i giorni dalla loro vita. Per quanto riguarda l'acqua, alcuni mi chiedono, ma va bene anche l'acqua gassata? Certo, purché si beva, va bene anche l'acqua gassata. E ricordate che l'acqua è importantissima per il nostro corpo. Il nostro corpo è fatto al 70% proprio da acqua. Ovvio, non è solo importante l'acqua per depurarci, dobbiamo anche iniziare a consumare più frutta e più verdura. In modo particolare, la frutta contiene davvero un mix di sali minerali e vitamine che ci possono aiutare contro questa stanchezza tipica di aprile. E come va consumata la frutta? Va consumata come frutto a metà mattina, a metà pomeriggio o anche come centrifugati di uno o due frutti. Davvero una bomba energetica. Adesso vi voglio parlare di tre verdure tipiche primaverili che possono davvero aiutarci a depurarci e eliminare le tossine, che sono gli asparagi, il radicchio e i carciofi. Iniziamo con gli asparagi. Gli asparagi hanno una spiccata proprietà diuretica. Infatti, si legano a delle molecole dell'azoto urinario e eliminano con le urine le tossine. Chi ha mangiato asparagi sa benissimo che subito dopo, a poche ore dall'inizio del pasto, se andiamo in bagno ad urinare, le urine hanno proprio la traccia della presenza degli asparagi, con un odore inconfondibile. Questo odore magari non è bellissimo, però è il segnale che nel nostro corpo sono state buttate fuori, legate a queste molecole degli asparagi, tante tossine. E passiamo alla seconda verdura primaverile, che è un ottimo tocca sano per il nostro intestino, è il radicchio. Il radicchio è un alimento davvero interessante dal punto di vista nutrizionale, può essere consumato crudo con le insalate o anche cotto. Il radicchio è pieno di fibra, quindi per tutti coloro che soffrono di stitichezza è davvero un tocca sana. Nelle diete io lo metto sempre, perché può essere consumato sia nell'insalata che anche cotto al forno con la carta forno. Dà tanta sazietà ed è ricco di antiocianine che fanno bene alla nostra circolazione. E finisco questa puntata parlandovi del carciofo. Il carciofo è proprio una delle verdure simbolo della nostra primavera. Contiene una sostanza che si chiama Cinarina, che è un ottimo detossificante epatico, ovvero aiuta il fegato a disintossicarsi. Quindi io lo consiglio per tutte le persone che hanno avuto delle epatite o che soffrono di epatosteatosi, ovvero che hanno il fegato grasso. Il carciofo andrebbe consumato per queste persone e per tutte in generale almeno due o tre volte alla settimana. Grazie a tutti.